Shalom fratelli e sorelle in Cristo. Gesù si rivela come il buon pastore, il pastore bello e come tale è disposto a dare la vita per le pecore. A Gesù sta molto a cuore la nostra vita, la nostra salvezza, per questo ci difende da tutti i pericoli. Noi non li conosciamo tutti, per esempio ci sfuggono alcune o molte insidie del diavolo, solo lui in quanto Dio bebe e conosce ogni cosa. Ma come buon pastore è anche colui che ci guida e quindi guidati dalla sua voce noi arriveremo a quei pascoli che resteranno sempre verdi, lì dove non ci sarà più pericolo perché saremo tutti capaci di dare solo amore. Preghiamo. Gesù attirami a te, fammi entrare nel tuo cuore, immergimi interamente nella tua carità infinita e fa che già su questa terra io sia concittadino del cielo, fratello dei santi, misticamente unito al Padre, a te che sei figlio, allo Spirito Santo amore e a Maria tua e nostra madre. Amen.